A Ferrara una nuova startup, Innova, specializzata nel design e nella produzione di soluzioni tecnologiche per l'aerospazio. Andrea Cecchi è l'amministratore. Siamo una startup innovativa partecipata anche dalla Camera di Commercio di Pisa e puntiamo proprio alla progettazione e costruzione di droni per uso professionale prevalentemente in fibra di carbonio in modo da dare leggerezza, coniugata, bellezza e tecnicismo del materiale da utilizzare. Qui vedo subito un ottocottero e ha una forma un po' particolare, si distacca dagli altri. Abbiamo addirittura i supporti che sono profilati, delle coperture, insomma una cosa un po' ufologica, diciamo. Ce lo puoi descrivere? Sì, grazie alla presenza di ingegneri aerospaziali che fanno parte della nostra società cerchiamo di distinguerci e non dare un prodotto semplicemente costituito da dei tubi che fanno il telaio ma unire quei concetti aerodinamici propri di mezzi appunto di questo tipo a droni multirotore. Quindi in questo caso abbiamo una struttura in cui il telaio è costituito da dei braccietti con un profilo alare in modo da ridurre la resistenza al volo. Tutta la struttura è realizzata in fibra di carbonio curato in autoclave grazie ai nostri impianti e l'elettronica come vedete è completamente inserita all'interno in modo da proteggerlo e renderlo fruibile anche con ogni condizione meteorologica. Si tratta di una macchina in grado di sollevare quanti chilogrammi di carico utile? Con questa configurazione e quattro batterie si arriva a circa 4 kg di payload per un quarto d'ora 20 minuti di autonomia. Ecco, questa macchina è già in commercio, vi state preparando a introdurla sul mercato? È pronta, è ingegnerizzata, stiamo aggiungendo gli ultimi dettagli e a brevissimo sarà in commercio. La Innova non solo droni ma anche una tuta l'area ad alta efficienza assolutamente innovativa. Sì, abbiamo anche in questo caso utilizzato le nostre competenze aeronautiche per dare qualcosa di più a un prodotto che si sta sempre di più sviluppando nel campo del paracadutismo che è appunto il volo con la tuta l'area, sia inteso come base jumping che come volo dagli aerei. In questo caso abbiamo inserito delle centinature interne in modo che le camere con la velocità stessa del paracadutista si gonfino d'aria e quindi si va a creare un vero e proprio profilo all'area anteriore al braccio del paracadutista che migliora l'efficienza e insomma dai calcoli preliminari ci aspettiamo un netto miglioramento delle prestazioni attuali. Anche questo è un prodotto che sta per entrare in commercio? Siamo proprio in questi giorni in fase di sperimentazione e se il tempo migliora insomma ci andiamo a lanciare. Nel Santa Santorum di Innova un progetto assolutamente straordinario un drone con ala a box o ala di prantl ad altissima efficienza interamente realizzato in carbonio e frutto di una notevole ricerca. Sì, questo è frutto di oltre 15 anni di studi e di applicazioni da parte nostra e come vedete è un modello realizzato interamente a mano in fibra di carbonio è il primo modello preliminare che comunque ha già effettuato dei voli di collaudo ma il vero progetto principe su cui stiamo investendo è la configurazione boxwing a decollo verticale sulla quale abbiamo già depositato e ottenuto la pubblicazione di un brevetto internazionale. E qui siamo veramente davanti a un'innovazione perché per assicurare il decollo verticale a una macchina come questa bisogna ricorrere a delle soluzioni innovative e piuttosto esclusive a tutt'oggi. In che cosa consistono? L'idea è quella di forare le ali che sono simmetriche e inserire all'interno delle ali stesse delle eliche che consentano l'overing del mezzo e poi in prima battuta utilizzeremo un motore spingente per combinare l'azione verticale e il volo orizzontale a quello verticale. Poi in un secondo momento stiamo già progettando delle eliche tiltabili che sono inserite su degli assi che possono variare il grado di incidenza in modo da combinare l'azione orizzontale e quella verticale attraverso una centralina. Vi appoggiate naturalmente a delle università per questi studi? Sì, Claudio è il nostro ingegnere, è un ingegnere del Dipartimento Ingegneria Aero-Spaziale di Pisa e con il quale stiamo avviando delle collaborazioni. Ingegnere, ce l'ha della mia misura? Assolutamente, anzi così dimostriamo che è assolutamente versatile e la può indossare veramente chiunque. Beh allora vado a fare un voletto.